Nel giorno del rientro alla normalità in città, i napoletani post vacanzieri hanno trovato una novità, l'ennesima di questo 2013 per quanto riguarda la viabilità, l'azzeramento delle tanto contestate ZTL. Restano blindate soltanto il lungomare liberato e le piste ciclabili, ma il resto della city è un open space, almeno fino al 30 settembre. Sospesa dunque la chiusura in via Duomo e Piazza Dante, cui i varchi saranno riattivati il 16 settembre, nonché Riviera di Chiaia. Ma il rischio caos è stato ben superato e raggirato dagli automobilisti, ormai abituati a una segnaletica ballerina in città. E in piazza Garibaldi, punto nevralgico della città di Napoli, affogato dai cantieri, arrivano i rinforzi della sicurezza, 200 agenti della polizia municipale impiegati per soccorrere i cittadini in difficoltà. A lanciare ora l'allarme sono però gli ambientalisti che temono nuovi picchi di inquinamento e chiedono alla Giunta di intervenire con dei correttivi.